Allora, la linea nostra non cambia di un centimetro, il ponte non deve essere dato di Benetton, va chiuso prima, la trattativa va chiusa semplicemente prima e il PD ci deve dare una mano, cioè il PD non deve fare come Salvini, Salvini si è nascosto, quando abbiamo fatto tutte le riunioni per decidere nel contenuto di revocare Benetton non partecipò mai e non ci permise quindi di avere i voti, serveva una legge, una legge che passa in Parlamento e lui non ce lo permise, il PD facesse questo, dicesse qualche cosa, chiudiamo prima dell'inaugurazione, questa è la linea.